Il concetto di option metamorphosis che vi accennavo stamattina è quel concetto che trovate nel libro di Kotl dove andiamo ad intervenire su una strategia esistente per cambiare la natura. Questo è il concetto di option metamorphosis. Tenete presente che un po' tutte le strategie che vi ho fatto vedere e anche tante altre si possono costruire e ottenere in tanti modi diversi e a volte sapendo come costruisco questa strategia combinando le opzioni in un certo modo basta veramente agire in pochi punti per cambiare completamente natura quella strategia. E' questo concetto di option metamorphosis cioè agire sui punti giusti, su quegli strike corretti, quelle opzioni giuste per cambiare natura quella strategia in corsa. Facciamo un esempio di aggiustamento così ci intendiamo con un esempio pratico. Noi siamo qua, ci troviamo in posizione con questa long call strike 50, il sottostante vale 50 quindi è una cola a the money. Cercate di seguire qua la lavagna e non sulle slide, ok? L'azione da 50 sale a 55, quindi stiamo guadagnando. È la classica situazione in cui se sei un po' un trader inesperto qua comincia a renderti un po' di mal di pancia perché dici cazzo ci ho azzeccato, ci ho preso però adesso magari torno indietro e mi rimangio tutto. Cacchio, stop che ho preso nei denti, adesso che vedo un po' di verde quasi quasi esco, no? Difficile stare lì, no? Quando c'è un po' di guadagno e rischiarlo, vedere che è lì sul piatto non fare nulla. Adesso vi faccio vedere come con le opzioni si può invece intervenire per fare qualcosina in più che non semplicemente chiudere quella posizione come potreste fare invece lavorando sul mercato azionario con il sottostante. Quindi se il mercato vale 50, va a 55, la mia posizione è long call, strike 50, è in guadagno vediamo cosa possiamo fare. Primo aggiustamento. Cosa abbiamo fatto in questo caso? Abbiamo venduto una call su quale strike? Ve l'ho scritto sotto, vedete? Abbiamo venduto una call strike 55 in questo caso. Come abbiamo trasformato la strategia? Come si chiama questa strategia? Questo è un bull call spread adesso, però quella è la sua peculiarità. Aprendolo in questo modo, viene chiamato questa forma di intervento in lagging, cioè una gamba alla volta. È un free trade, bravissimo. Questo è il concetto tecnico di cosa abbiamo appena fatto. Un free trade è una strategia che ho costruito in due tempi diversi e costruendola, finendola di montare, nel momento che la prima gamba è in guadagno, quando vado a raggiungere la seconda, ho creato un profilo che non può più perdere, in quanto vedete che è tutto sopra lo zero. Questo è più facile del previsto da costruire. Se avete un modello che vi dà delle buone indicazioni sulla direzione dei prezzi, che ha ragione il 73-74% alle volte, classica strategia di reverting sui mercati azionari, arrivare ad avere tanti free trade non è poi così complicato, perché le volte che ha ragione sale un pochettino, sono già pronto per andare a fare la vendita di quella call che va a bloccare quel guadagno. Ed ecco che la mia strategia si porta sopra lo zero, che è la linea tratteggiata. Adesso se il mercato scende da 55 e torna indietro, non posso più perdere. Se sale, avrò però messo un tetto massimo al mio guadagno che è 55, cioè che è il livello che ho definito con la call venduta sullo strike 55. Era il solo aggiustamento che potevo fare, questo? Beh, sereno. Io incasso un premio, perché ho venduto un'opzione call 55. È proprio quell'incasso che mi sta finanziando l'acquisto del primo premio. Quindi il mio debit del vertical spread si è azzerato, ecco perché è un free trade. Questo poteva essere un altro aggiustamento. Cosa che ho fatto in questo caso? Avevo una call strike 50, adesso mi ritrovo con una call strike 55. Qual è la caratteristica di questa call strike 55? Beh, che il profilo della call, quello in rosso, dove potevo perdere soldi, l'ho portato sopra lo zero. Quindi cosa vuol dire? Che se il mercato torna indietro, comunque qualcosina porto a casa, se sale invece tutto bene e continua a guadagnare. Questa è un po' l'idea di questo aggiustamento. Come si ottiene? Si ottiene in questa maniera. Che tipo di strategia è questa? Dove vado a vendere una call strike 50 e a comprarne una strike 55? Vendo strike 50, compro strike 55. È un credit spread sicuramente, ma di che tipo? Bullish o bearish? Siamo rialfisti o ribassisti con questo credit spread? Bullish o bearish? Questo è un beer call spread. Vedete? Vendo la call 50, se vendo la call 50 sono rialfista o ribassista? Ribassista. Mi compro quella 55, un pochino più distante per arginare il mio rischio. Quindi questo è un beer call spread ribassista, che però unito a quella call che era diventata in the money prima, mi dà questo tipo di profilo. Avevo una call, quindi come ho fatto a fare quella cosa che dice lui? Cioè a rollare un po' più in alto la mia posizione, a rollare quella call sul prossimo strike? Com'è che l'ho ottenuto? Con un vertical spread. Memorizzatela questa cosa. Come si rollano le posizioni? Con i vertical spread. Adesso facciamo un po' di esempi. Vediamo l'ultima alternativa che avevamo. L'ultima era questa. Com'è che ci arrivo qua? Vi ricordo che avevo una call strike 50. Come faccio ad arrivare a questa posizione? E soprattutto la posizione risultante che c'è qua è rialfista o ribassista? Perché nei primi due casi mantenevo un'esposizione rialfista. Però ipotizziamo che io cambi idea sul mercato. È passato due settimane, tre settimane, non sono più così rialfista come prima. È già salito il mercato. Ora penso che il mercato possa scendere invece. Ho cambiato in natura la mia posizione. Gli ho girato. Ho girato la natura, quindi da rialfista che era divento ribassista. Come arrivo a ottenere questa posizione qua? Com'è che ho fatto? È bastato vendere una call 45. Il mercato è salito. Vendo una call un po' più in basso. Quindi questa è una call in the money. E questo è il profilo che ottengo. Questo è diventato come tipo di strategia un beer call spread. Giusto? Sono ribassista. Però ho bloccato un bel po' di guadagno. Perché sta qua che ho venduto mi ha strapagato. Adesso se il mercato sale mi dovrò accontentare di questo guadagno. Ma se ho ragione scende sto amplificando il guadagno che stavo già registrando prima. Perché ho preso la prima parte del rialzo. Adesso se scende davvero aumento il mio guadagno per prendere anche la seconda parte di quel ribasso. Capite cosa sto facendo? Nel primo caso vedete che non ho bloccato profitto ma ho creato una strategia dove alla peggio faccio patta. Qui ho creato una strategia o semplicemente mi sono ritrovato dentro una strategia che continua ad essere rialzista. Questa è una strategia che invece adesso diventa ribassista. Nel primo caso con il mercato già a 55 io ero già arrivato. Nel senso che devo solamente aspettare un po' per vedere un po' maturare un pochino più di guadagno. Ma più di 55 che è il mio strike superiore qui non si poteva più di tanto fare. Quello era un modo per bloccare il mio guadagno ma per arrivare comunque a un free trade. In questo caso invece ho proprio girato la posizione. In questo caso rollandola mi mantengo aperta la possibilità di approfittare ancora di un po' di rialzo. Questo è un altro esempio di come possiamo sfruttare i vertical spread per arrivare a crearci le posizioni che vogliamo. Qui ho preso un primo vertical spread e questo è un bull non sappiamo se è fatto con le call e con le put quindi è un bull spread. Se io vado ad aggiungergli un bear spread su questi strike quello che ottengo è una butterfly. Questa butterfly prende il nome in realtà tecnicamente di iron butterfly perché è una butterfly ottenuta combinando call e put insieme. Quando invece usate solamente le call oppure solamente le put si chiamano butterfly e basta long butterfly. Ok? In questo caso ho usato dei vertical spread per creare qualcosa di un pochino più complicato. Potrei usare dei vertical spread per creare un iron condor o per creare anche altre strategie cambiando il numero dei contratti. vi faccio vedere un altro esempio di come potete usare i vertical spread questo è un long straddle giusto? Come faccio a rollare più in alto un long straddle? Cioè a spostare questo straddle verde nella figura che trovate qua di straddle rossa e cioè uno straddle centrato strike 50 lo voglio portare su strike 55 come si fa? Usiamo dei vertical spread i vertical spread sono il nostro modo di traslare le robe di qua e di là. Facciamo un esempio. Allora se vogliamo portare da questo questa V verde vogliamo trasformarla in questo long strangle nero com'è che possiamo fare? Ecco il primo aggiustamento che andiamo a fare vendo una call strike 50 ne compro una strike 55 ma se vendo una call strike 50 ne compro una strike 55 che tipo di vertical spread è questo qua? è un bear call spread quindi io ho il mio long straddle apro un bear call spread ho creato un long strangle su quei due strike lì e se voglio a questo punto portare anche il lato basso più verso l'alto cosa faccio? Con le put ho venduto una put strike 50 compro una put strike 55 e cos'è questo? Vendo strike 50 put compro strike 55 put è un è sempre un vertical spread ma che vertical spread è questo qua? è sempre un bear spread bear put spread in questo caso il primo è un è un vertical spread debit o credit? il primo è credit e il secondo è debit perché? perché il secondo è debit? perché quando vendo quella put strike 50 io incasso di più o di meno rispetto alla put strike 55 meno perché la put 55 ha una moneness più forte è più in demone rispetto alla put 50 quindi vendendo quella put 50 incasso meno che quella put 55 fate una foto a Marco per piacere in questo momento che se volete leggere lo sconforto sul volto di Marco Marco si è messo proprio la mascherinata fra un po' la vedremo con la mascherina sugli occhi così fa meno male tu potresti avere tante buone ragioni per spostare lo spread un po' più su ok una di queste ragioni potrebbe essere dire vada a bloccare un po' di guadagno perché giustamente se da 50 va a 55 tu sei già un po' in rampa di lancio su un lato dello spread dello spread dello spread se vuoi spostare questo spread e ricentrarlo sul prezzo attuale quello che tu hai fatto adesso è spostare lo spread un po' più in alto e quindi hai bloccato un po' di profitto tutte queste maniere di bloccare profitto nel caso ad esempio in questo caso dello spread questo è per chi di voi ha visto un po' il materiale propedeutico ha visto un pochino dei codici scritti di sopra questo è un primo modo di poter fare gamma scalping ho una posizione che è fortemente gamma positiva che è il long spread quando il mercato si sposta io voglio ricentrare questa figura per prendere eventualmente il movimento dalla parte opposta o continuare a prendere il movimento da quella parte questo rollare spostare lo spread e portarlo col fulcro a 55 è un primo intervento che si fa per fare scalping sul gamma cioè per bloccare un po' di profitto adesso che l'ho conseguito che l'ho maturato ok adesso stiamo un pochino avanti questi qua sono solamente esempi vedrete che adesso si semplifica un pochino le cose lo dico per Fabio che è andato in difficoltà però Fabio stai sereno adesso semplifichiamo tutto non preoccupate ora avete visto che abbiamo utilizzato due vertical spread in realtà il primo era fatto con le call il secondo con le put sono lo stesso profilo se voi lo guardate senza sapere che opzione avete negoziato però avete visto che si può arrivare alla stessa identica strategia allo stesso profit o sgraf semplicemente cambiando tipo di opzioni e arrivando allo stesso tipo di risultato ok il concetto di debito credit dipende dalla differenza che c'è fra il premio che hai incassato e il premio che hai invece dovuto pagare per acquistare quell'opzione tutte le volte che quella venduta ti paga di più di quella comprata se hai credit quando invece incassi meno sei debito dipende dove hai sottostante dipende se hai usato le put o le call dipende da questi fattori qua ok qualcuno si è chiesto perché nel trasformare quello straddle che avete visto prima da quella verde a quella rossa come profilo cioè questo qua dal verde al rosso perché non ho usato direttamente due beer call spread allora perché l'ho fatto invece in due tempi con la call prima e con le put dopo non ve lo siete chiesti perché se hai lo stesso profilo potevo anche negoziare due opzioni avevo risolto la pratica subito per poterlo fare in due momenti diversi concetto importante quando parliamo di aggiustamenti è il timing di quell'aggiustamento voglio arrivare da qui a qui ci possa arrivare con un'operazione sola ci possa arrivare in due tempi diversi perché può essere più interessante arrivarsi in due tempi diversi per poter fare il timing per poter farlo nel momento migliore possibile e bloccare più guadagno possibile questa è l'idea un po' dell'aggiustamento cambio natura la mia posizione ma devo farlo col timing corretto se sbaglio il timing mi aggiungo le cose se ho una posizione di rialzista penso che il rialzo sia finito mi giro al ribasso e il mercato però continua a salire quell'aggiustamento non ha funzionato ok se quando sono rialzista a un certo punto dico per me rialzo è finito sai cosa c'è non mi giro al ribasso ma vado a mettermi in una posizione tale da essere neutrale rispetto alla direzione ok se il mercato riparte mi ritorno a girare al rialzo se invece arrivo al ribasso completo il mio aggiustamento e vado a girare la posizione al ribasso e questo è l'idea dell'aggiustamento di cambiare natura quella posizione ma andando sempre un po' per gradi un pochino per volta questo è un esempio di come potevo creare subito rollare subito una posizione ma invece l'ho fatto in momenti diversi perché per provare a gestire meglio quella posizione con il timing un pochino più preciso qua l'idea ogni volta che qualcuno che ha visto il corso investire con le opzioni si ricorderà Luciano se lo ricorda di sicuro si ricorda l'immaginina del collegate al cervello ok ogni volta che compare sta roba il mio messaggio è collegate al cervello cioè pensate a cosa state facendo la miglior piattaforma ce l'avete già sopra il collo non serve che rincorriamo Zinco Swim l'Option Station Pro tutte le piattaforme super sofisticate basta quello che avete sopra il collo e basta carta e penna qui sotto è un esempio di come si possa trasformare una butterfly in un Iron Condor che è la domanda che vi ho fatto prima come faccio un Iron Condor a ritrovarmi su una butterfly aggiungo una butterfly se ad una butterfly aggiungo un'altra butterfly cosa trovo? l'Iron Condor che c'è di sotto come faccio a capire come si fa? vedete qual è lo schema di lavoro? vado a disegnare la prima butterfly col mio foglietto su un taccuino e vado a disegnare verticalmente i miei strike vado a disegnare la figura a cui voglio arrivare e devo cercare di capire quella è la figura intermedia che mi trasforma la prima nella seconda una butterfly sommandoci un'altra butterfly che è decentrata di uno strike diventa un Iron Condor se la vado a decentrare ancora di più trasformo un Iron Condor in un pochino più largo ci siete? ogni tanto faccio vedere l'ho fatto vedere di recente questo è un articolo delle foto di un quadernone questo quadernone di quando ho iniziato io a fare trading con le opzioni e non c'erano tutte queste piattaforme fighissime che ci sono oggi c'era Option Oracle all'epoca che vi raccomando tutto Option Oracle bidone di piattaforma gratuita però come si facevano a imparare a fare queste cose io ho disegnato a penna vedete il profit loss graph e a matita andavo ogni volta ad aggiornare il profilo e come facevo? facevo degli schemi come questi per capire come da una posizione potevo arrivare a ritrovarmi in un'altra posizione allenatevi a fare questo lavoro anche se avete piattaforme fighissime oggi perché se va allenato a fare questo lavoro qua con carta e penna capite le cose e dopo che le avete capite controllate voi le piattaforme e non solo le piattaforme a controllare voi che è il più grande problema di chi fa trading con le opzioni e cioè essere un po' in balia dei mille tentativi che fai sulla piattaforma non hai capito un cazzo però più o meno ti piace il profilo lo fai non è così che si impara a fare trading bene con le opzioni ok? questo è un altro esempio ancora vi dicevo mi ritrovo con la mia butterfly questa volta ne sommo due di butterfly a questo punto ho una butterfly che prende il nome di ratioed butterfly o di butterfly asimmetrica se volete che di nuovo rispecchia un altro tipo di magari bias o comunque di aspettativa che ho su quel mercato queste cose adesso vedremo come farle e testarle anche con l'option lab perché si possono codificare solo un accorgimento una precisazione su su questi aggiustamenti qualcuna volta pensa che chi aggiusta le posizioni sia un trader discrezionale i trader meccanici non aggiustano le posizioni non è corretto non è così in realtà un trader discrezionale è più probabile che aggiusti la posizione perché fa parte un po' del suo modo di lavorare apre un trader sulla base di quello che vede vede qualcosa di diverso aggiusta la posizione ok? ma un trader sistematico semplicemente quello che fa rispetto a un trader discrezionale è testarle prima con gli aggiustamenti quello che noi faremo oggi e domani sarà testare prima delle varianti delle alternative di aggiustamenti e trovare dei criteri che ci facciano innescare questi aggiustamenti che avremmo già testato prima e avremmo già verificato che sono efficaci la differenza è solo quella anche noi possiamo fare aggiustamenti continuativi su quella posizione l'approccio sistematico ci impone però di testarli prima adesso vedremo come fare a testare questi aggiustamenti per arrivare poi a poterli utilizzare e impiegare in realtà ok? qualcuno potrebbe pensare ma quante sono le alternative per poter aggiustare una posizione? infinite se ti raccordo sono veramente tante le cose che posso fare su una posizione per cambiare natura per aggiustarla un po' la classica obiezione che ti fa il trader discrezionale è dirti sì ok ma come fai a testarle tutte? la mia risposta di solito è sì ma io non è che per poter mettere a mercato un trading system devo aver prima scritto tutti i possibili trading system su quello strumento no? chi è che di voi ha mercato con una strategia e ha già scritto tutti i possibili trading system su quella strategia? nessuno è impossibile scriverli tutti ne ho scritto uno mi convince lo uso se riesco a codificare un aggiustamento vedo che funziona non c'è bisogno che io sappia fare altri 17 aggiustamenti se quello funziona mi piace faccio quello quindi il camp di oggi come senza non è quella che vi sto facendo vedere qua cioè di metterci qua ad essere in maniera molto creativa smontare la posizione rimontarla questo spero sia un lavoro che farete a casa per imparare a usare le opzioni a fare questo lavoro qui nel camp semplifichiamo le cose perché lavoreremo su aggiustamenti già predefiniti già pianificati li testeremo e se ci piacciono li attuiamo non diventeremo bravi a conoscere tutti i possibili aggiustamenti che ci possono essere su una strategia quello è quello che si impara quando fate trading discrezionale quello che cercheremo di fare qua sarà individuare alcuni aggiustamenti testarli e poi darvi un protocollo per poterli mettere a mercato e poterli utilizzare in maniera efficace tutto chiaro? questo è quello che andremo a fare